Primaverati. È ora. Dobbiamo passare a un'altra attacca. Tutti danno per certo il coro di regime. A Castro non resta che una strategia di sopravvivenza o l'esilio. Più la rivoluzione è morta a Cuba. E poi vedo come la piglia di queste cose. Il capitalismo non è la soluzione. Lui mi dice... ...resiste. Hai visto che ci ha scritto comunque? Stimato comandante, Gorbaciov si sta completamente calando le braghe di fronte alle richieste Yankee. Lei, ormai unica e solo ballovarto socialista nel mondo, sarà il prossimo bersagno. Stati Uniti d'America! Mi sono sporcata! Tu qua stai, disgrazia! Questa è la vittoria comandante! Sempre! Mio marito è pazzo, come una cocozza. Vedete qua, l'ha scritto pure sopra il foglio. Ispettore, io non sono pazzo. Io sono un confidente di Fidel Castro. E il mio dovere è essere vicino a lui e al popolo cubano in questo momento terribile per il socialismo mondiale. Un sogno americano. Quello è la porta. Io voglio la motocicletta mia, brutto strusso. E' sempre quella la questione. Il denaro, capitalisti! Oggi a Cuba si festeggia, lo sai perché? No. Per commemorare la morte di Ernesto Guevara, detto c'è. Non lo sapete? No! E se mai ti ricordo come le anni malattie. Il 30 ottobre. Il 30 ottobre. Veramente ti ricordo? Che un bel coi. C'è che vorrà. La fai sempre a pere, che fu un man. E ci russa con me. Siamo comunisti. Qu判定. La fai sempre a pere. Che ? Che?